Il mondo è diventato due mila anni fa, denti e gipsi. Poi userò tre palline, tutte entri dello stesso colore, per eseguire la mia barchetta magica. In cosa consiste questo gioco? Ogni pallina viene coperta da ogni scepe, quello rosso, quello giallo e quello verde. Attenzione, prendo la pallina da sotto lo shaker rosso, la passo nella mia mano sinistra, un colpetto magico in sotto e la pallina scompare. No, non ce la faccio. Prendo la pallina da sotto lo shaker giallo, la passo nella mia mano sinistra, un colpetto magico e la pallina scompare. Infine faccio lo stesso con lo shaker verde, passo la pallina nella mia mano sinistra, un colpetto magico e la pallina è compatta. Incredibilmente ogni pallina ritorna sotto ogni shaker, quello verde, quello giallo e quello rosso. Aspetta, 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 aspetta. Continua. Quindi, come ti chiami tu? Scusami, Federica, uno, due e tre. Federica, indicami uno shaker. Scegli ne uno. Quello rosso, prendo la pallina da sotto lo shaker giallo e la metto sotto lo shaker rosso. La pallina scompare da sotto lo shaker giallo e appare sotto lo shaker rosso. Quindi, volendo, si può fare anche al contrario e farce vedere uno e due. Prendo la pallina da sotto lo shaker giallo e la metto sotto lo shaker400. La pallina scompare da sotto lo shaker giallo e appare sotto lo shaker verde. Quindi qui abbiamo due palline. Qui 0 e qui 1. Quindi prendo la pallina da sotto lo shaker rosso, la passo sotto lo shaker giallo, riprendo la pallina da sotto lo shaker giallo e la metto sotto lo shaker verde. La pallina scompare da sotto lo shaker rosso, passa attraverso lo shaker giallo e appare sotto lo shaker verde. Quindi signori, no no, ma non è finita, non è finito. Quindi signori, c'è il shaker stress. Triple S. Questa volta prendo la pallina da sotto lo shaker verde e la elimino. Prendo la pallina da sotto lo shaker rosso e elimino anche questa. Mentre sotto lo shaker giallo c'è una sola pallina. Ok, la prima è eliminata sotto lo shaker verde e ritorna sotto lo shaker verde. Quindi questa qui la elimino e poi ritorna sotto lo shaker rosso e ritorna sotto lo shaker rosso e ritorna sotto lo shaker giallo quanta pallina ne abbiamo? 3, 2, 0, no, 3, 3. Attenzione, prendo la prima, la seconda e la terza e le elimino. E poi per magia avremo una piccola bocchetta di Jack Daniels, un bicchiere di vino di ghiaccio e una laggina di colla, signori. Bravissimo! Grazie a tutti, signore. Quindi, un bel esercizio di Jack e Coca, per andare con voi alla magia e l'ansia cocktail e magic. Bravo, Agus!